Amici di Marcosbox, benvenuti in questo 43esimo episodio del podcast di Marcosbox. Anche questa settimana mi sentirete di merda perché sto registrando la puntata dal Nexus 4, il mio Xeome MiA2 Lite è ancora nelle mani dell'assistenza Xeome Italia. Quindi nutro seriamente poche speranze che vengano risolti tutti i problemi che ho segnalato. Di sicuro il display verrà cambiato, ma tutto il resto, i problemi per quanto riguarda il Wi-Fi, per quanto riguarda la capsule auricolare e quant'altro, secondo me non verranno risolti, faranno come al solito e me lo rispediranno con la dicitura aggiornamento software, quindi se ne gamberanno le mani. Sto valutando comunque l'acquisto di un nuovo smartphone, adesso ho preso il computer, per il mese prossimo se tutto va bene riesco, riuscirò a prendere un nuovo smartphone, anzi se nei commenti mi lasciate qualche suggerimento, qualche consiglio. Non mi suggerite comunque il Xeome perché croce nera, non ne prenderò mai più uno. Iniziamo la settimana parlando delle notizie che non c'entrano niente con il mondo Linux, sto procedendo al contrario. Questa settimana ho pubblicato una notizia riguardante la risoluzione di un errore relativo a un launcher di Epic Games. Mi sono accorto, nella partizione Windows ho i launcher di Epic Games perché ogni tanto giochicchio qualche cosa, anche se principalmente lo utilizzo per prendere i giochi gratis che vengono rilasciati ogni due settimane, ogni tanto, quindi sto facendo una libreria in mezzo di giochi a cui non giocherò mai. Vabbè, comunque, tralasciando questo piccolo particolare. Mi ho accorto da qualche giorno che c'era questo errore di preparazione dei launcher di Epic Games. Non veniva avviato il launcher, a un certo punto ho pensato sarà la mia solita sfiga congenita perché io mi becco tutti i bug assurdi e niente, sull'lippery non ci avevo nemmeno messo peso perché ho detto, ah, magari forse domani si risolve, non so. Poi ho avviato il launcher anche i giorni successivi e c'era sempre lo stesso errore. Mi sono messo alla ricerca su internet di una possibile soluzione e mi sono accorto di non essere l'unico sfigato che aveva questo piccolo problema. sul blog, quindi vi posto la soluzione su come risolvere questo errore che causa questa schermata infinita di preparazione dei launcher di Epic Games. Si tratta di fatto di andare nella cartella una sorta di Windows Program Data e lì di andare a cancellare il file che trovate in descrizione, o meglio la cartella chiamata Manifests, che si pronuncia, che trovate comunque all'interno di quella cartella, di quel percorso. E niente, facendo questo piccolo trick, si risolve. Passiamo adesso alle distribuzioni Linux. Grazie a Luca che ha pubblicato la guida, adesso abbiamo anche una guida su Fedora31, una guida post-installazione. Luca ha pubblicato una guida che spiega quali sono i passi da combiere per poter perfezionare la propria installazione di Fedora, giusto adesso deve mettersi a martellare quella di sopra. All'interno della guida trovate tutte quante le istruzioni e una guida fatta nello stile di Marcos Box, quindi viene spiegato passo passo, codec, suite di produttività, multimedia, peer-to-peer, personalizzazione del desktop e quant'altro. Andate alla legge perché è davvero fatta bene. Quindi se avete poi installato a Fedora avrete tutti i suggerimenti del caso. Passiamo poi a Mangiaro. Mangiaro, qualche settimana fa vi avevo parlato, qualche settimana sì, circa qualche settimana fa è vero, anzi un mese fa, vi avevo parlato di un sondaggio lanciato sul forum di Mangiaro nel quale veniva chiesto ai lettori di scegliere quale layout donare all'edizione Gnome del Radistro. A distanza di quasi un mese da questo sondaggio è arrivato sul profilo Twitter di Mangiaro una preview di layout switcher, che cos'è? È un tool che, come lascia presa ai giorni il nome, ci consente di personalizzare l'aspetto di Mangiaro Gnome. Che cosa fa? Possiamo disattivare i branding, possiamo disattivare i iconi su desktop, i iconi nell'assistant 3 e quant'altro. È una piccola preview di quello che sarà questo tool, è davvero comunque interessante perché una delle critiche che fanno tutti quando a Mangiaro è che effettivamente tutti quegli i buristi di Gnome fanno a Mangiaro è che la personalizza un po' troppo. Con questa decisione di agire, di consentire poi agli utenti di personalizzare la distro in modo tale da eliminare tutte le mangiarità, secondo me è una buona cosa. Anche perché Mangiaro è una distro che si apprezza per diversi fattori, perché è sempre sul pezzo, viene aggiornata costantemente, quindi con il modello semi-rolling che non introduce troppi bug. Ed è davvero una buona distro, una validissima alternativa alle solite Ubuntu e Ubuntu-based. Parlando sempre di distribuzioni, è straperata in rete la beta di Dpin20, in realtà sarebbe la beta della versione quella aziendale, da quel che ho capito, cioè l'edizione quella diciamo così per non quella normale. E che dire, guardandola si è molto resa un po' pacchiana rispetto a quello che eravamo abituati, perché il layout è stato reso molto cartunesco sotto alcuni punti di vista del sistema, però comunque è davvero completo, se voi andate a vedervi video, tutte quante le varie componenti del sistema sono tutte omogenee tra di loro e quindi il risultato finale è comunque del complesso piacevole. icone a parte, perché se voi andate a vedere, è molto stile ROM orientale di quelli dei telefonini cinesi, di quelli di una volta, le prime ROM dei telefonini cinesi, che avevano un wick particolare, con delle trasparenze particolari, con i particolari, ecco, si vede che questa impronta cinesi, comunque è davvero, il team di D-Pin si sta davvero impegnando molto per questo nuovo rilascio di D-Pin 20, lo sta rendendo molto accattivante, sta rendendo molto accattivante la disto, gli sta dando un'impronta facilmente riconoscibile. Restando sempre in tema di distribuzioni, ho pubblicato la notizia del rilascio di Zorin OS 15 Lite. Che cos'è Zorin OS? Zorin OS è una derivata di Ubuntu basata su Ubuntu RTS, quindi in questo caso ci troviamo a essere basata sull'ultima RTS, la 18.04, che a differenza delle edizioni principali di Zorin OS. La edizione principali di Zorin OS offre una Gnome Shell personalizzata, ve ne ho parlato già diverso tempo fa, quando è stata rilasciata la disto. Quest'edizione, l'edizione Lite di Zorin OS è basata su XFCE, nella fattispecie XFCE 4.14. Zorin OS offre tutte le personalizzazioni rato estetiche che abbiamo già visto su Zorin OS edizione principale, quindi con un tema che graficamente è molto bello, out of the box come si dice, offre un buon impatto visivo. A poi alcuni tool, per esempio quei tool che è introdotto sul Zorin OS, che è lo Zorin Auto Team, che è in grado di cambiare automaticamente il tema del desktop, fare la modalità scura al tramonto e tornare a modalità chiara all'alba. Ci sono poi, non disturbare, qualche aggiunta che è stata fatta quella, la distribuzione offre il supporto a Flatpak e il supporto agli Snap, quindi potete starare quello che volete, potete mantenere aggiornata. Carino anche il tema di icone, anche se qualche ritocco per le icone di terze parti, sapete che io preferisco non personalizzare, in questo caso che personalizzano anche le icone di terze parti, mannaggia a voi, dovete rendere tutto come gnome, che è bello che lasciare con le icone di terze parti quelle degli sviluppatori. Comunque, davvero una distro che vi consiglio, soprattutto se avete un computer datato, perché Zorin OS Lite 15 è pensato anche per computer vecchi. Io l'ho provato sul mio vecchio computer e effettivamente la velocità, la reattività si vede, si percepisce. Poi è anche bello graficamente, il layout è stato impostato bene, fateci un pensierino. Adesso passiamo a un argomento di cui vi ho parlato qualche settimana fa, no qualche mese fa, anzi scusate sono passati tre mesi ora che ci penso. Vedete guardate, tre mesi fa circa sì, avevo postato la notizia di un fork di GIMP, un fork di GIMP che alcuni sviluppatori hanno realizzato, hanno iniziato a realizzare, che ha lo scopo di eliminare quello che a loro detta è il più grande problema di GIMP che le impedisce, meglio, la diffusione a livello globale, ovvero il nome, perché GIMP nello slang americano significa qualche altra cosa, preso come termine puro e sarebbe cordoncino. Poi vabbè, andatevi a vedere l'articolo che ho fatto a riguardo, che ho linkato anche sul post di GIMP, quel nome significa anche altro nello slang americano e quindi di conseguenza loro pensano, eh ma non possiamo proporre questo software con un nome del genere nelle scuole, nelle aziende, secondo me c'è tutta una teoria loro riguardo il nome. Vabbè, il team di GIMP ha sempre grissato su queste provocazioni e ha detto, il nome non si cambia perché oramai GIMP è quello, è riconosciuto anche con quel nome. Vabbè, problemi che a parte. E' nato questo fork ed è nato GIMP. Ed è stata adesso rilasciata la prima versione, la prima release di questo fork, GIMP image editor 0.1.0. E' basato su GIMP 2.10.12, quindi 9 ultimissime versioni di GIMP, Bubble alla 0.1.68, Gedgehog alla 0.4.16 e MyPaint alla 1.3.0. Attualmente, diciamocelo, è soltanto un rebrand di GIMP perché hanno preso GIMP e hanno tolto tutti i riferimenti a GIMP, sostituendoli con quelli di GIMP, quindi dalle schermate, menu e quant'altro. L'unica cosa che hanno fatto è che hanno raggiunto il supporto a Vagrand e rimosso alcuni script che non vengono utilizzati nel fork. Quindi, è GIMP. Di fatto è GIMP. Speriamo, in futuro, che questo fork inizi a camminare con le sue gambe e che introduca delle novità magari all'interfaccia, come si era detto all'inizio, e altre cosine quelle là. Perché? Almeno così ha un senso. Perché per adesso senso non ne ha tanto. Gli utenti Linux possono già instagare GIMP tramite Flatpak o Snap. Per Windows è disponibile una prima void non firmata, mentre per macOS non è attualmente presente nessuna versione. Ma non credo che gli utenti di macOS ne sentiranno la mancanza. Ultima notizia di questa settimana, ultima notizia che ho postato sul blog, riguarda una nuova morte illustra all'interno del panorama dei prodotti di Google. Google si prepara a uccidere Google Cloud Print, che era il servizio di Google che consentivano a qualsiasi applicazione web, desktop o mobile, su qualsiasi dispositivo nella rete cloud, di stampare su qualsiasi stampante compatibile. Io utilizzavo questo servizio in passato. Era comodo. Il servizio lanciato nel 2010, il 31 dicembre del 2020, smetterà di essere supportato e a partire del primo gennaio del 2021 i dispositivi di tutti i sistemi operativi non saranno più in grado di stampare utilizzando Google Cloud Print. Google ci ha tenuto a precisare comunque che, per quanto riguarda gli utenti Chrome OS, non dovranno preoccuparsi perché Google ha migliorato l'esperienza di stampa nativa per Chrome OS e continuerà ad aggiungere funzionalità alla stampa nativa su Chrome OS. Quindi non dovete piangere. Piangeremo noi. Piangeremo noi che lo utilizzavamo su altri sistemi operativi. Nuova rapide quindi nel cimitero dei prodotti Google. Andatevi a vedere il sito che ho postato su Marcosbox dove vi fa vedere tutti i progetti che Google nel corso degli anni ha creato e poi ucciso. Bene, con questo concluso ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ciao ciao!